Pinterest è l'ultimo social network arrivato in casa Sampdoria. Si tratta di un innovativo portale di photo sharing che la società di Corte Lambruschini ha deciso di dedicare principalmente alle tifose blucerchiate. Un vero social in rosa, con gallerie fotografiche riservate al backstage e alla moda femminile. Iscriversi a Pinterest è facile. Basta collegare il proprio account Facebook o Twitter, oppure crearne uno nuovo. D'ora in poi potrete pinnare, cioè appuntare, le vostre foto in apposite gallerie chiamate board. Cercando Unione Calcio Sampdoria tra i pinners, gli utilizzatori di Pinterest, troverete l'account ufficiale dei colori blucerchiati. Esistono diverse board tra le quali cercare le immagini che più vi piacciono, Sampdoria's Supporters, ad esempio, oppure KitK 2012-2013. Vi piace vedere i vostri campioni anche fuori dal campo? Allora non serve altro che cliccare la board UC Sampdoria Lifestyle. Vi piace una foto? Basta un like per dimostrarlo. UC Sampdoria Women's Fashion è invece la galleria interamente dedicata alle ragazze della Samp, con tutti i prodotti ufficiali a marchio Sampdoria Point. Una foto ti interessa più delle altre? Schiaccia il tasto e repeat e appuntala sulla tua bacheca, per averla sempre con te. C'è un'immagine che vorresti condividere anche su Facebook o Twitter? Puoi, è semplicissimo. Basta cliccare di fianco alla foto che ti interessa. Su Pinterest, la protagonista, sei tu. Grazie a tutti.